io non la metto niente vabbè io non ce la faccio c'è vicino a te qui aspetta aspetta no non ce la fai sono lontano aspetta che andiamo insieme aspetta non c'è vicino se ci faccio vedere la debora che mi aveva la red e volevo sparare chi? perchè mi fai effetti strani poi dopo ah ah questo è il terreno mi viene a calcare lì proprio brutto si trova spagnare capito dopo la red tu sei arrivato sei mai accontentato di stare calmo vi aspetta svaleggete e venite vi aspetto qua vi sei riuscita a svaleggere veloce mai senza morire qui mi pesca un po' di armi qua che tanto c'ho la fiocina a posto poi se riesco a finire in tempo qua beh cerco di venire ovviamente stanno combattendo con due boss ah è tempo di aumentare la sensibilità a pazzo no folle com'è la massima sensibilità per me ci sono abituato a questa sensibilità e per me è troppo poco me la sono messa quasi al massimo io la sensibilità e da è da parecchio tempo che gioco con questa sensibilità e mi trovo proprio bene com'è la situazione? tranquilla? eh andò? si si stiamo roppendo una cassa ottimo mi ha abbandonato mi è accontentato di starmi quattro soldi che stai pigliendo cioè non è possibile che ci sia solo una... ah via dove l'altro mi sembrava strano ah 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 senti ti servono qui giù d'assalto blu si 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 il gioco lo guarda mi serve più una mitraglietta se trovi la mitraglietta blu meglio ancora un nemico ho trovato mi stanno sparando alle spalle uno l'ha ammazzato mi ha ammazzato un altro ehi quanti sono vaffanculo l'ho inquieto tende che tenen armi buono un bagno mi ha pulito perché non possono manco rianimare cap'è ma l'ho già d'uso siete tutti per i cazzi loro vediamo se c'è roba buona no questa era più ero già l'arugna ha vinto perché io non ho kit medico lascio tutti e te lascio o che te lascio e lascio come giù io te lascio pure la metraglietta dipende che muo vengono se non sai che faccio i miei meni però per la si fricca tra l'andana capitale zio erano praticamente morte se ne sono andati lì la con venti di vita tutte e due erano bianchissimi l'ho lasciati aspettiamo aspettiamo l'andana ancora ci vuole ci vogliono 3 minuti e 50 per farla chiudere ancora poi un altro minuto per far arrivare la safe sta benissimo siamo qui dispersi non lo compai dai faccio un po' che c'è giù non lo voglio fare ma però non ti fai chiudere il culo perché me ne vai abbiamo più una cabina ma tu hai l'arma leggendaria tu hai un fucile rugato no perché tu hai l'arma quella che fa tutto 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 che spara con lì a sputarsi non ti fai tu hai l'arma tu hai l'arma tu hai per otor tu hai l'arma tu hai l'arma tu hai l'arma come contendo ma mappa 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 che ci sia che mi buta una spruzzata di a che si parla che le chiorano poco con l'uccello? l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho sparato, ottimo, grazie dell'acqua, mio, il mio scarrozzo, hanno usato un jump, non stanno venendo, bravo, uno è morto, sopra, 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 curatemi, andò, c'è un kit medico, è una cosa, si, si, guarda, che cazzo, è un'ammazzata, morto una, sono romanzo, suri, fatti prima un penobar, costo un kit, come il di più energía, come cazzo l'ammazzo, scusami, can dealing with control, con il mio vincito, puoi scendere, vant hurdles, solo con te la c***o chi l'ha abbandonato come tu? hai mandato? no ma tocca il f*** medico subito non faccio attendere la scheda no dai per la scheda tua subito subito credo ... non la c***a ci vuoi quando? che va bene? non la c***a non la c***a si te la c***a non lo so non la c***a ha o no non mi piace non la c***a le c***a si te la c***a non lo so non è successo Dov'è che limita? Non c'è l'elicottero che aspetta Non c'è io quindi Sì, non c'è il mio piano... Ci sono lì, non c'è la scuola, non c'è la scuola... E ho una ricerca... E quindi, non c'erano le spalle... Ah ah... Sì sì, sono io e il pastore... ma non c'è la tua scuola... 3 attende che c'è alcuni c'è un po' di no, c'è pure quello là come si chiama un scarro viola o un scarro leggendario vieni online eh, c'è un po' di tici, ma è data a poco ma si sa che avrà un'immunizione non è che avrà un'immunizione non è che avrà un'immunizione perché mi ha dato che l'ora ma è dato che l'ora qua vai, ti ho dato che l'ora è quale aspetta ti ha fatto che hanno tutto qui, 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 qui qui carica, carica carica tutto vedi che bella giochetta che ti fa a creare aspetta, state nascosti vabbà, anzi, non è giusto non è ragione, viamo in là ah, allora vabbè, che ci stia che a me sembra una pochi materiai avvisa se vieni un sparo, no? si, 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 si tutto è la sopra, va e' da'necmi fatta la struttura io mi sono giusto con pochi materiali e se poi non posso costruire ma hai fatto i fiori così hai detto che? 6 persone sono rimaste fate una struttura così non è che c'è più uno o c'è chi state arrivando l'elicottero non ha chiesto l'elicottero ma quando ero ballando a tu gli ho colpiti scudo cacciato non shield buoni buoni ne avessimo a spostare comunque ma arriva la safe yamanini 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 go 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 sta chiudendo yamanini ma vincere questa partita perché è una bella partita porca troia è peccato perdere veni di sacchè la minchia che c'è pure l'aerdrop non lo salvo lascialo stare non lo salvo non lo salvo vengono a scoprire la tutta la collina veloce andando a t'accosto di non dover sparare ne prendiamo tutto l'aerdrop ma che lui piace a fare i cosi oppure se che facciamo mettiamoci nel cespuglio così loro si pensano che noi siamo al light drop capito ammucci ammucci ti capisco a me la frutta si che mi piace a me la frutta mi piace mi piace a me la frutta mi piace per una giro che mi scusa ma te la torta c'è chi mi viene qua mi ne so che non c'è spuglio per il momento hai te la pietà di uno scu d'è uno scu d'è uno scu di G1 chiamone, 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 chiamone con me ma quanti cazzo siamo? scusa, gli altri dove cazzo stanno? ah mi troppo una giocciospuglia, a posto ora devo aprire il 6, no? fattile con calma vabbè che tanto manco un po' tomo adesso non sta guardando, eh no perché comunque erano due forti, quelli sono due forti? oh tutti forti stavo guardando questa partita, manco uno scarso manco uno scarso, manco uno scarso, tutti forti anche tre le tanti ok si stanno sparando a vicenda, meno male camara hanno incontrato un altro team sono d'ing, sembra che l'ultimo sul 3, 3, si ci ha fatto maforo si, 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 siamo noi due più... vieni con me, vieni con me ma si chiude cazzo vuoi? che è un denier si stanno ammazzando a vicenda ma se non riusciamo a... eccole, eccole, eccole guarda andò, guarda dov'è ma ne potrò ammazzarne i brutti ecco la eh ma non è finito ucciso, a terra uno ucciso, a terra uno a posta, a posta è morto, un ascolto, da mucite, da mucite, da mucite sta venendo, sta venendo, sta venendo, andò, preparati cura, cura, cura sta venendo, andò andò, copri, ti copri, ti copri, ti copri, andò è persa, è persa era solo quella, andò, due contro uno siamo solo lui devi ammazzare, ammazzato solamente a chi? ui mamma mia Antonio l'hai ucciso, andò, un colpo lo devi dare carica costruisci, ti costruisci intorno andò a destra bravo Antonio, vai che partita da canale, questa su youtube bravo, sto figlio di puttana, che ci voleva ammazzare dall'inizio, che ci voleva ammazzare e che cazzo